Anche tu, visto che anche per te è stata un'esperienza bella, intensa, adesso cosa ti aspetti? Adesso, come la trimestra, vediamo, la palla passa un po' alla pubblicata, che anche scelte possono fare, in prospettiva, siamo a disposizione, è stata un'avventura intensa sicuramente, che venga bene, spero di aver portato un po' di un appunto, quello che è mancato, sicuramente la cultura del lavoro è la possibilità di essere quello che abbiamo fatto, ritirando fuori anche i datori che magari erano un pochino stati dimenticati, quindi la, diciamo, di tanto, di merita, assolutamente, di tanto va anche molto concente, quindi quel lavoro è di rinforzare, vediamo quello che vogliono fare, magari va bene, va bene. Si è trovato bene qui a poco, si è trovato bene, non ci troviamo il gruppo dei datori, di rinforzare, era già una situazione, anche da cui si collaborava, c'era già un contatto, lavoro dietro. Però se non riesco di bruciarsi per tutti in questa situazione, invece mi siete riusciti bene? No, bruciarsi no, forse non aveva avuto l'appunto da perdere, secondo me è almeno così come l'esperienza, perché tutto sommato avrò venuto a tirare, il danno per il corretto era stato fatto, qualche po' di rinforzare, magari prima lo so, quindi adesso, no, però sì, questo c'è sempre il rischio di fare, bruciarsi no, però di fare l'esperienza, magari tanto positiva, sicuramente, pochi rischi, ecco.